Ambiente, turismo e cultura al centro della rinascita della cooperativa di comunità di Montelaterone. Siamo nel Grossetano, in una piccola frazione del comune di Ercidosso e qui, partendo da un immobile fornito dalla Curia, verrà realizzato un ostello puntando sulla tipologia dell'albergo diffuso. Il territorio riparte così con un progetto comune e la voglia di far tornare le persone ad animare il paese. La cooperativa di comunità, in questo caso, come in altri, viene nel momento in cui c'è una ripartenza. La cosa bella di oggi è che abbiamo anche trovato tante persone, alcune persone che sono tornate a vivere in questa frazione, in questo paese, dopo che avevano fatto esperienze da altre parti. E quindi, insomma, come diciamo spesso, se si creano le occasioni, forse questi territori, che chiamiamo marginali, possano avere anche delle potenzialità. Ci siamo resi conto che Montelaterone ha tantissime storie da raccontare, che è bello condividere, ha tantissime facce, tantissimi volti, tantissime piccole relazioni, perché da fine nei piccoli centri le storie piccole diventano molto più grandi, molto più importanti. E allora, anche per non farlo morire, abbiamo detto, beh, iniziamo a raccontare. Lo facciamo con il teatro, con l'arte, con la musica, con le fotografie. Però iniziamo a ricordarci chi siamo e quindi a vivere. A Montelaterone tutto è partito da un circolo culturale, quello della Brizza, inaugurato nel 2016. Inizialmente era solo un bar, poi è diventato un punto di riferimento per tutto il borgo, aggiungendo servizi per i cittadini e divenendo poi anche bottega della salute. Da qui l'idea della cooperativa di comunità, con l'obiettivo di ampliare la sfera dei progetti a sostegno del territorio e dei suoi abitanti. Speriamo di poter, diciamo, riuscire a concretizzare il nostro sogno completo, che è il circolino, come hai detto, che è stato un po' il punto di partenza, l'ostello che dovranno iniziare a breve lavori, grazie a questo contributo della Regione Toscana, e il ripristino dell'alberghino che è poco qui avanti, che è l'unico alberghino di Montelaterone. L'ostello non è presente qui nei comuni della Miata, quindi sarebbe un nuovo servizio e stiamo cercando appunto di recuperarlo con anche i soldi che ci vengono dati dalla Regione Toscana e fare comunque un recupero mantenendo la tipicità di Montelaterone, ovvero vorremmo che chi viene comunque nel nostro ostello sia uno ostello che si trova solo a Montelaterone e che abbia le caratteristiche toscane della nostra zona, del Montamiata. Il sindaco di Arcidoso ha poi spiegato che intorno alla rinascita del borgo ruotano anche altri progetti legati non solo al turismo, ma anche alle nuove tecnologie, con l'obiettivo di attrarre finanziamenti anche da progetti europei. Il turismo è una cosa importante, ma poi bisogna creare anche lavoro stabile e tutte le frontiere che possono essere offerte dalle nuove tecnologie, da internet e dal digitale, potrebbero in qualche modo rendere attrattivo un borgo come Montelaterone che offre una grande possibilità di avere una qualità della vita molto alta. Grazie. Grazie.